Buongiorno, sono Silvano Fiato, vengo dall'Italia e anche quest'anno siamo qua alla Milano Tour Convention, uno degli eventi più importanti al mondo del tatuaggio e sono felice di essere qua. Ciao, sono Dèvora Cherris, di Madrid, Spagna e sono qui per la quarta volta a la Milano Tour Convention, sono molto felice di essere qui dato che abbiamo un grande livello di artisti. È una meravigliosa convenzione, una delle migliori in Italia e spero di tornare un anno e un altro e un altro, quindi spero che disfrutatevi e non perdetevi questa convenzione. Ciao 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 Io sono Riae, sono un'alternativa moderna italiana, vivo in provincia di Varese, quindi il camicino. Questa è la mia seconda volta come ospite alla Tatu Convention di Milano e ogni anno è veramente figo perché conosco nuove persone, nuovi artisti, vedo tatuatori di tutto il mondo ed è veramente bello. È tutto qui. Ciao 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 Io mi chiamo Luke Coec, sono specializzato nel tatuare noire e gris e realistica. Sono venuto a questa conventione perché ho sempre visto parlare. Ci sono molti tattugiati. E ho l'idea di inscrivere. È una conventione che si tratta molto bene per il momento. Sono molto contento di essere là. E penso tornare l'anno prossima. E io vi consiglio di partire questa esperienza con voi. Ciao, questo è Adam Sentuc. Oggi siamo in Milano Tati Commission. Uno dei migliori in Europa. Questo è il mio terzo anno qui. E ogni anno si tratta di migliorare. Un'ottima di artista. Un'ottima di tattugiati. Tutti tutti i tattugiati. Tutti i tattugiati. Un'ottima. 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 Noi, mi nome è Vanavie Frost e sono ora a la Milano Tattoo Convento 2018 e questo è il mio terzo anno qui e ho davvero amato questo convento è una delle più belle e più belle conventi che ho mai visitato e ho sicuramente dovuto tornare l'anno prossimo Bye! Ciao! 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 Ciao!